Il Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Lascaris l'esule cubano Antonio Guerrero Rodriguez. Condannato negli Stati Uniti per spionaggio, detenuto per 16 anni, è stato liberato con grazia del Presidente Obama il 17 dicembre 2014. Ospite nei giorni scorsi del Festival di Poesia a Venezia, dove ha presentato le opere scritte durante gli anni di detenzione, Rodriguez ha ringraziato per la solidarietà ricevuta dall'Italia.